Grazie mille, cosa si può dire? Si può dire che bisogna ringraziare questi uomini fantastici che stanno soccorrendo e cercando i dispersi. È un momento molto triste per tutta la comunità nazionale, ma soprattutto per Bologna e per questa montagna. È una montagna già martoriata, perché voi sapete che oggi vivere in montagna, stare in montagna è sempre più difficile. C'è uno spopolamento, ci sono problemi enormi, c'è una popolazione che invecchia e ci sono pochissime attività. Questa centrale è sempre stata un vanto, non ha mai avuto nessun tipo di problemi, è sempre stata all'avanguardia e francamente è una cosa molto triste. Ma dopo via Mariti a Firenze siamo ancora a raccontare... Sì, ma bisogna capire ogni situazione ha la sua tipologia, non bisogna neanche fare di tutta l'erba un fascio, bisogna vedere. Oggi ad esempio si è parlato di catena di subappalti, ma in realtà qua non mi sembra che ci fosse una catena di subappalti. Allora bisogna veramente capire bene che cosa è successo e non fare, secondo me almeno, processi sommari che non servono. Serve arrivare alla verità e serve soprattutto ripartire, perché la montagna ne ha bisogno. La montagna è ferita, ferita pesantemente per tutta una serie di cose e questa è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Poi naturalmente pensiamo ai caduti, pensiamo alle famiglie, adesso qua proprio in questo momento ancora. Arrivederci ragazzi. Grazie. Grazie.